presso la galleria delle carrozze di palazzo medici riccardi l'inaugurazione ufficiale della mostra nuove cantine italiane architetture territori un connubio tra gastronomia e architettura che fa anche da volano e catalizzatore di ulteriore nuovo turismo sul territorio toscano e si un tempo febbraio era considerata basta stagione a firenze devo dire invece che la presenza di tanti visitatori anche tanti italiani turisti italiani di alta qualità giovani scuole rappresenta un po una novità del dopo covid che segue al record di questo natale e questo credo che sia anche grazie ai progetti culturali che mettiamo in campo in città ce ne sono veramente tantissimi abbiamo appena chiuso la bellissima mostra a palazzo strozzi ma ci prepariamo ad altri ad altri importanti progetti e tra questi l'inaugurazione oggi qui nel cortile delle carrozze nella galleria delle carrozze di palazzo medici riccardi di queste cantine italiane una mostra che parla di vino parla di cantine parla di paesaggio e di architettura di storia ed identità una mostra molto bella anche perché originale e mette in luce un aspetto particolare della nostra toscana e cioè la capacità di coniugare la qualità e la tradizione del vino con la bellezza di progetti architettonici delle cantine che diventano un evento a sé stante per cui si visitano questi luoghi non solo per assaggiare dei vini straordinari pieni di storia di tradizione di profumi ma si ammira anche l'architettura contemporanea di cantine che incarnano la creatività contemporanea quindi ci sono veramente tanti buoni motivi per venire a questa mostra e poi magari da questa mostra progettare un tour enogastronomico ma anche culturale nella nostra bellissima regione e nei dintorni di Firenze oltre che nel resto d'Italia perché la mostra parla dell'Italia